Eccolo, eccolo! Eccolo il nostro eroe! Ho giocato la partita migliore del torneo! Eccolo, complimentato! Hai giocato la partita migliore del torneo? Per me si, oggi ho giocato la partita migliore del torneo, niente da dire! Bravo, bravo! Che grande staff ragazzi, nulla ci è precluso, nulla ci è più precluso! Abbiamo conquistato il foro, e vai! Sono una nostra colonia ormai! Sì, possiamo dire, abbiamo vestito molto questa splendida ferma, mizzura, l'abbiamo già avvertito per tutti per la premiazione! Quindi la premiazione adesso, ti stanno aspettando già in campo? Mancano già che ne prendo un po', mazza questo poverino, cioè stasera è stato demoralizzato! Però cazzo, la cosa che mi fa specie, ma non capiscono proprio che cazzo sta succedendo in campo! Eh, quella, la chiave! Oh, cazzo là, ho sbagliato una risposta, sul servizio suo ho sbagliato una risposta in due set, cioè... Un dritto a rete, mi ricordo! Oddio, un dritto... Forse due! Un rovescio lì esterno, cioè, questo serve in maniera importante questo ragazzino! Ragazzo, ragazzo, da vent'anni! Vent'anni! Ma è più forte lui o quello di stamattina? Allora, secondo me è più forte lui, però quello di stamattina... Però lui mi fa giocare bene... Quello stamattina era più solido! E quello di stamattina mi fa giocare male! Perché il mancino? No! Perché così stamattina va sempre a prendere la palla sul rimbalzo e tira sempre piatto dall'alto verso il basso, praticamente. Cioè, la palla gli fa così e quindi io con la mia presa e anche con la mia paura, cioè non riesco ad andare veloce lì, questo mi fa salire la palla, quindi l'aggancio pure da... Senti, ma con il... quali sono le prime cose che farai con il Montepremi di questa tornella? Con il Money Prize? Allora, da quello che ho capito, serve assolutamente... Urge una batteria per il soffione! Ragazzi, mandiamo il nostro maestro, scendiamo a vedere la premiazione, dai! Amici di Di Pugolaro! Dopo il freddo di questi giorni, boh, cioè oggi è a 25 gradi! Beh, insomma, mica tanto! Qua faceva freschetto, eh! Eh, non c'era vento, c'era vento! Va bene, andiamo a vedere la premiazione! Ciao a tutti!